Ciao a tutti, benvenuti a questo video nel quale parleremo del mito legato alla luna piena, potentissima, nel segno dello scorpione. Il mito è quello di Persephone, uno dei miti più meravigliosi, più potenti della storia degli dèi greci. Allora, due parole su questa luna. Questa luna piena è talmente potente che viene presa come punto di riferimento spesso proprio per anche delle festività. Il famoso Vesak, che nasce proprio dal concetto delle diverse tappe della vita del Buddha, prende proprio spunto da questa lunazione. Questa lunazione vede una contrapposizione netta tra due segni zodiacali che per le loro caratteristiche sono diversissimi. Il sole si trova nel segno del toro, la luna opposta si trova nel segno dello scorpione. L'opposizione toro-scorpione è un'opposizione tra le più potenti dello zodiaco. In più, tutte le volte che noi abbiamo una fase lunare di luna piena, già potente di suo, dove la luna è in un segno di acqua, come lo scorpione, abbiamo una luna che è molto potente. Quindi l'inconscio, il subconscio che viene azionato, attivato da questa luna piena, da questa fase lunare della luna piena, è un inconscio particolarmente potente di suo. Lo scorpione è il segno dell'indagine più profonda. Una luna in scorpione di suo è un inconscio pronto e bisognoso proprio di andare nella profondità della psiche, in quella zona che Freud chiamava la zona d'ombra, una zona ricca di emozioni, sentimenti, paure, tormenti, bisogni. La luna in scorpione è la luna più profonda che ci sia, perché è quella luna che va a lavorare con le caratteristiche del segno geodiacale e lo scorpione è il segno geodiacale del subconscio più bestiale per eccellenza. Quello che muove e si smuove, passionalissimo e potentissimo, proprio con i valori della nostra umanità più bestiale e più potente. La psicanalisi è da luna in scorpione. Bene, mito di Persephone. Persephone è esattamente nel suo mito la perfetta contrapposizione tra toro e scorpione, tra materia e inconscio, tra stabilità e ricerca della stabilità statica, il toro, e movimento continuo che porta a rigenerare. Il toro è il segno della casa con le quattro mura, il proprio terreno che possediamo con il nostro nome scritto sul cartello e il recinto che fa entrare solo poche persone. Lo scorpione è la perdita di tutto ciò. Lo scorpione è l'abbandono di tutto ciò per vivere una fine che sia un'eredità. Allora se l'accumulo è nel toro, lasciare andare come eredità è nello scorpione. Se nel toro c'è la staticità della vita, il toro è il segno del parto della mamma che partorisce al latta, nutre, lo scorpione è il segno della morte. E Proserpina cosa fa? Sei mesi con la madre Demetra, dea delle messi, dea della vegetazione che cresce e nutre, e sei mesi, quindi giocando vitale, e sei mesi nell'Ade come sposa del re degli inferi. Quest'opposizione semestrale perfettamente equilibrata della vita di Proserpina è esattamente l'opposizione tra toro e scorpione. Proserpina, prima di essere Proserpina, veniva addirittura chiamata Core, la fanciulla. Era la figlia della dea Demetra, quindi la dea delle messi, del grano, la dea della fioritura, dell'agricoltura, quindi una dea di nutrimento, una dea del suolo, della terra, dei beni, del possesso, della fisicità, del bene che ci serve per mangiare e quindi per nutrirci. Lei, fanciulla spensierata, giocava con le figlie di Oceano, era proprio una ragazza che coglieva i fiori Core, la fanciulla. E qui è il toro, il toro che è proprio la spensieratezza, l'immediatezza, godereccia, bella, sorridente, pacata, piacevole, ma che rimane sulla superficie. Superficie. A un certo punto, Proserpina ignara di quello che è stato deciso per lei, pattuito per lei tra Ade, che era lo zio in realtà, e Zeus, il padre, viene rapita, la terra si apre, lei coglie questo giglio meraviglioso, messo lì apposta, coglie questo giglio, la terra si apre, esce Ade dal sottosuolo, Ade che è la parte invisibile, Ade è l'invisibile rispetto a Zeus, Ade esce con i suoi cavalli, rapisce Proserpina e se la porta via. Quasi nessuno nell'Olimpo sembra aver visto nulla se non Ecate, Dea Triforme, l'abbiamo già vista nella luna nuova in Scorpione Ecate, e proprio Elio, il dio del sole. Proserpina viene rapita, la madre impazzisce, abbiamo già visto il mito di Demetra ad esempio nella bilancia, la madre impazzisce e quindi va a cercare sua figlia tra i mortali, tra gli immortali, finché a un certo punto comprendendo, venendo a scoprire di questo grandissimo complotto avvenuto alle sue spalle, decide di scioperare, Demetra va in sciopero, non cresce più nulla, la popolazione è nella carestia e allora Zeus si impietosisce e decide di aprirsi al compromesso. Questo compromesso vedrà la metà della vita di Demetra, dall'equinozio di primavera all'equinozio d'autunno, vivere all'aria aperta. La parte più estroversa della nostra stagione è una modalità solare di crescita, ci sono i raccolti, c'è la vita, c'è la luce, e invece quindi Proserpina è sulla terra e l'altra parte dell'anno in cui Proserpina discende negli infari per diventare la regina, indiscussa compagna di Ade, che proprio grazie al Narciso mantiene la sua bellezza giovanile eterna. Proserpina pare che abbia mangiato nel regno di Ade i chicchi di melograno e questi chicchi di melograno la tengono, trattengono inevitabilmente nella terra dell'Ade, almeno per la metà del tempo. E quindi ci chiediamo, ma Proserpina, questi chicchi di melograno, li ha mangiati perché è costretta, come dice una parte del mito, o li ha mangiati di sua spontanea volontà? Perché proprio lei, l'ingenuità, leggera, leggiadra, giocosa, fanciullesca, ingenua, Taurina, rapita, spaventata, in questo regno dell'Ade incontra questo personaggio, Ade appunto, che è potentissimo, è il re dell'invisibile, è il mistero. mistero, è la forza potente di tutto quello che avviene nel sottosuolo. Il sottosuolo è quello che noi non vediamo, è quello che noi non possiamo conoscere, al quale non possiamo arrivare, il regno dei morti, ma come tutto il regno dei morti è potentissimo di vita. Lo scorpione, il regno degli inferi, sono potentissimi, pregni di vita, ci sta il vizio, ci sta la passione, ci sta la perversione, ci sta la tortura. Pensate all'inferno di Dante. Nello scorpione, nel regno dell'Ade, ci sta tutto quello che è nascosto all'esterno, quindi quello che è nelle nostre viscere più potenti, del nostro inconscio, del nostro subconscio, quella parte di noi che sfrigola nel secondo chakra, quella parte di noi che sfrigola nel basso ventre e che ci fa desiderare, ci fa arrabbiare, ci fa morire di gelosia, ci travolge, ci fa venire quella passione irrefrenabile per cui noi una cosa la dobbiamo fare. Sentiamo nella pancia esattamente dove c'è lo scorpione. Dove il toro è il cibo che nutre, lo scorpione è legato anche all'ano che si libera, ai genitali e soprattutto all'ano che si libera di questo cibo. E allora è proprio questo cibo che chissà se Proserpina ha mangiato volontariamente oppure no, ma è proprio questo cibo che lega Proserpina nel regno dell'Ade, almeno per la metà dell'anno. Questa opposizione è esattamente questo. Chi nel suo tema natale ha un'opposizione tra toro e scorpione spesso ha proprio questa sensazione di perdere il terreno, di sentirsi estraneo in qualsiasi terra vada a vivere e questo esattamente Proserpina non ce l'ha una casa perché per sei mesi la sua vita è sulla terra, per sei mesi nel regno degli inferi. In questa opposizione c'è la perdita del controllo del toro per buttarsi nella morte che è l'anticamera della rinascita, è l'anticamera dell'evoluzione vera tipica dello scorpione, è l'opposizione tra la materia e il metafisico, tra la stabilità concreta razionale e il bisogno di indagine potentissima che ci porta ad evolvere, per evolvere dobbiamo morire, per rinascere, vivere l'inverno, il periodo in cui Proserpina va proprio nell'ade per aspettare la nuova primavera, dove il toro è la staticità, lo scorpione è l'evoluzione ma è l'evoluzione che parte dalla morte e questo è proprio la lunazione del ciclo della vita. Mi sono molto infervorata su Proserpina e su questa luna piena perché è una delle mie preferite, una delle più potenti, godetela, vivetela, pensate a quello che volete lasciare andare proprio per aprirvi all'evoluzione. Ciao!